A volte la verità non basta. A volte la gente merita di più. A volte la gente ha bisogno che la propria fiducia venga ricompensata. Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa semplice e rassicurante. Come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito.